Ma chi sei? Sono Batman. Se ti tramuterai in qualcosa di più di un semplice uomo... Tu chi sei? E se nessuno riuscirà a fermarti... È qui, è Batman. Raquel! Diventerai una leggenda. Forse non siamo così diversi. Chi sei tu qui sotto? Sono vendetta. Cos'è, Neil? Ci sei? No, non so, non so. E non so se vuoi... Grazie a tutti.